Allora, con il miss Renio Polverino, un pareggio 1-1 oggi sul campo del Faiano, una partita che sembrava essersi messa bene per l'Agropoli, poi è arrivato questo pareggio nel primo tempo che attrita un po' le gambe alla squadra. Che ne si fa di questo match? Cosa si fa? Si prende il buono e purtroppo bisogna ripartire. Purtroppo abbiamo spiegato alcune palle e golli che non dovevamo sbagliare. Capita, succede su questo campo, proteggabile, quindi è andata bene così. Diciamo, la squadra ha avuto dei difetti in zona offensiva, nel senso che oggi ha sprecato molto, però è stata punta sull'unico errore difensivo, poi alla fine sulla marcatura su Merola che non è stata perfetta. Si, in effetti quella è stata. Purtroppo pallina attiva non bisogna prendere quella al 45esimo, bisogna stare più attenti, più attenti su queste palline attive. Abbiamo sbagliato, purtroppo capita, va bene. Però alla fine abbiamo avuto la palla del 2-1 e l'abbiamo mancata. Poi chiaramente rimanendo in 10 persone abbiamo sofferto un po' l'oro, ci sta pure. Però alla fine è un punto, diciamo, che va bene. Mister, domenica andiamo di nuovo su un campo in terra battuta, diciamo, con il Baldiano. Si aspetta un match tipo questo, diciamo, domenica prossima? Effettivamente così sarà. Cioè, i ragazzi devono capire, purtroppo troveremo più di questi, come questi campi uguali, uguali. Il terreno non ci aiuta. Alla fine dobbiamo essere tutti, tutti, tutti e 20, 22, compatti e lavorare sodo, lavorare. Bisogna lavorare. Anche perché la squadra è un po' stanca, però questo non è attenuante. Però dobbiamo fare meglio. Mister, oggi il debutto di Kamanà, diciamo, dal primo minuto, mi sembra sia andato abbastanza bene. No, no, bene, bene, bene. Per essere la prima partita è molto molto bene, infatti, ragazzi. È bravo, è bravo. Allora, mister, un pareggio importantissimo, ma la sua squadra poteva anche vincere sul finale? Sono d'accordo. Noi, ho detto ai ragazzi, tra il primo e il secondo tempo, che abbiamo regalato un tempo all'Agropoli, e questo è stato un errore grave, madornale, perché è una squadra che è ben organizzata, è una squadra che sa palleggiare, è una cosa che avevamo già previsto, però la squadra era troppo timorosa, probabilmente pensava di essere inferiore sul piano del gioco e della qualità, e quindi si sono tirato un po' indietro. Quando hanno capito che bisognava stare più su, abbiamo messo in difficoltà una buonissima squadra come l'Agropoli. Di quelle che ho visto, onestamente, sotto l'aspetto dell'organizzazione del gioco, mi ha fatto una buonissima impressione. Hanno idee, una squadra che ha idee. probabilmente dovranno colmare alcune lacuna, lo so, in difesa, qualcosa, concedono, anche perché noi nel secondo tempo potevamo approfittarne meglio, potevamo essere un po' più lucidi sotto porte e portare a casa questa vittoria. Sarà quindi il gol del 1-1 che ha cambiato un pochino la faccia del match, che poteva compromettere il secondo tempo per il Faiano, che sembrava aver accusato e poi ha reagito benissimo. Sì, è vero, sono d'accordo. L'hai letto benissimo, hai dato una lettura perfetta della cosa, perché poi andare sotto e non riuscire a recuperare nel primo tempo sarebbe stata tutta un'altra partita. Perché, ripeto, questa è una squadra che ti palleggia in faccia, è una squadra che non ha paura di palleggiare, quindi probabilmente la nostra foca nel secondo tempo sarebbe servita a poco. Io perciò mi sono innervosito tantissimo tra primo e secondo tempo perché non volevo una partenza così anonima, così abulica. Noi siamo una squadra che quando tiene ritmi alti può mettere in difficoltà squadre più importanti come la Globoli, altrimenti si fa fatica poi a fare risultato contro queste squadre. La prossima è con la battipagliese, gara molto tosta. Il Fagano appunto per il momento sta in una posizione di classifica ancora compromessa, però comunque si può dire che le prestazioni sono quasi sempre ottime. Sì, è vero. Noi abbiamo pagato, siamo stati un po' sfortunati sotto l'aspetto... Diciamo, nei minuti finali abbiamo concesso troppi errori. Vedi Castel San Giorgio, per non parlare di Cervinara, Santa Maria potremmo fare pure qualcosa in più, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita. È un gruppo giovane, un gruppo che deve maturare, deve prendere coscienza dei propri mezzi, a mio avviso, perché possiamo fare di più. È un problema adesso, diciamo, l'organico è molto ristretto, soprattutto negli over siamo contati e poi abbiamo perso in precampionato Abate, che per noi era fondamentale, così come stiamo facendo fatica a recuperare consiglio. A questa squadra, se concedi Abate e Consiglio, ha delle grosse difficoltà. Turco ha molta esperienza su questi campi, però le era mai capitato, ad esempio come l'Agropoli, di giocare ben 11 partite in un mese? Mi è capitato, le dico che mi è capitato, se non sbaglio, proprio ad Agropoli. No, 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 era un anno in eccellenza con la Bertoni. Abbiamo avuto lo stesso problema, siamo partiti in ritardo con la Coppa e mi è capitato di... oltretutto quell'anno andammo parecchio avanti, sto parlando del 2000-2001, e mi è capitato. Ripeto, non avevamo la rosa numerosa che è l'Agropoli. Lo so che questo è difficile, però sai, la squadra, quando hai un organico così lungo, la squadra è pure contenta di allenarsi di meno, e semmai di fare più partite durante la settimana.